C'è un patrimonio culturale e paesaggistico che benché sia sotto gli occhi di tutti, spesso non è così conosciuto ed apprezzato. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, si adopera affinché luoghi solitamente inaccessibili siano aperti al pubblico almeno una volta all'anno per poter essere ammirati e al tempo stesso per approfondire la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro paese. Nel Tigulio i siti che saranno aperti in occasione delle giornate di primavera sono tre. Si parte dalla splendida abbazia di San Fruttuoso incastonata nel promontorio di Portofino. Il FAI a Portofino ha anche un grande oliveto in produzione e quindi ci sarà oltre che al significato storico, artistico, culturale, meraviglioso di questo posto, paesaggistico ma anche proprio il modo di avvicinare le persone al lavoro. Altra proprietà FAI è Casa Carbone a Lavagna. Una casa borghese della fine dell'Ottocento con gli arredi, le stoviglie, quindi un modo per entrare in quella che era la vita di una famiglia borghese di quel periodo. Anche l'abbazia della Cervala a Santa Margherita Liguri di proprietà della famiglia Mappelli sarà aperta alle visite. Oltre all'edificio storico si potrà ammirare il restaurato giardino. È stato completamente restaurato con la sostituzione di tutti i bossi monumentali e quindi ci sarà praticamente la presentazione al pubblico. Duplisce l'obiettivo delle giornate di primavera. Innanzitutto far conoscere luoghi abitualmente non raggiungibili o comunque di difficile fruibilità. Secondo far percepire attraverso queste visite quello che è il rapporto del luogo, dell'ambiente, del monumento, tra virgolette che potrebbe anche essere un orto, torno a dire, con il contesto attuale. Grazie.